E' bella ragazzi, oggi siamo su un nuovo video Allora, oggi è appena uscita la settimana 9 di Deadpool Io l'ho già fatta, ma voglio fare una guida su come farla Per avere Deadpool X-Force Allora, la prima è trova i boxer di Deadpool E questo lo possono trovare qua da gente Amida E praticamente accanto a qua ci saranno i boxer Basta che ci clicchiamo sopra e praticamente avremo fatto la prima Ora invece, l'altra missione è quella Di rendi omaggio ai pantaloni di Deadpool E praticamente è quei pantaloni che si trovano Ma vi faccio vedere Sabbie sudate Ma ve lo faccio proprio vedere E dovremo rendergli omaggio Così sbloccheremo Deadpool X-Force Come ce l'ho già io Allora, come... Io ero nata a sabbie sudate Così ho fatto una missione Spesso su quello centrale Sul palazzo centrale Quello il più alto In cui sta una specie di paniera Con i pantaloni di Deadpool Basta che cerchiamo Praticamente ci dà direttamente lo stile Quello del colore Quello X-Force Che prende da bianco gli occhi rossi Che sia per maschera E senza maschera Oh Qua proprio sabbie sudate Esatto Non aspettiamo che è 2000 metri E li vedremo sventolare Come è successo quando è uscita la settimana Quando è uscita la settimana 7 In cui è uscita la skin di Deadpool normale Che da là si vede uno dei suoi visti Si può sventolare Sta per esempio Sia lo Yacht Da diverse parti Stanno sia Allo Allo Quello che mi ricordo io Che stanno allo Yacht All'agenzia E ma Sabbie sudate Io Per esempio L'ho completata qua Ma vi faccio proprio vedere Che poi Con Deadpool Del colore normale Ci va La bomba Di l'intoclicerina rosso Invece Con Deadpool Come che sia Vabbè Con Deadpool X-Force Si abbina bene Con il paracadute Di nitoclicerina Cioè bombe Però Versi una ombra E praticamente è qua Qua Sta La bandiera E ti uscirà Attendi Poi spingi il pulsante Praticamente Lo hai Qua proprio E avendo così X-Force Nel frattempo Io uccido questo Vediamo No Vole ucciderlo E morirà da solo Vabbè Dopo questo Si può anche morire E praticamente Ritornerremo Alla lobby Dopo la Mizzera di caricamento Ormai Un po' Mizzera Ragazzi E avrete qua Lo stile X-Force Di Deadpool Della settimana 9 Proprio colore X-Force E potrò Di averlo Sia per la maschera E sia senza maschera Beh Così potremmo Finire Così possiamo Finire il video E Ciao